Grazie a tutti. Tra l'altro uno dei primi volti femminili, tra ce ne stavano anche altri, un piccolo bilancio, un pochino di questa presenza femminile nella RAI nel tempo? La RAI, la televisione, il genere è donna. Infatti quando noi parliamo dell'apparecchio diciamo il televisore. Se parliamo della televisione diciamo la televisione. E quando sono entrata io nel 1961, dopo aver vinto un concorso per nuove annunciatrici in occasione del secondo canale televisivo, l'annunciatrice era un personaggio molto importante in quanto rappresentava la RAI per gli spettatori che improvvisamente si trovavano a che fare con un mezzo innovativo, importante, cioè questo ingombrante, grosso televisore catapultato nelle famiglie. Ecco, noi rappresentavamo l'azienda, la RAI, informavamo, eravamo dolci, rassicuranti, educate, e entravamo nelle case in punta dei piedi e loro identificavano tutto quello, l'azienda, questo nuovo mezzo lo identificavano con noi. Poi naturalmente il tempo è passato, i canali sono cresciuti, sono diventati tantissimi e anche il nostro ruolo è cambiato. Io posso dire che la nostra professione è diventata obsoleta quando hanno inventato il telecomando, perché non c'era più bisogno di qualcuno che informasse cosa succedeva da un canale all'altro, cioè la gente doveva alzarsi dalla poltrona, andare al televisore, premere e cambiare. E allora la nostra professione è diventata meno importante e anche il nostro ruolo, perché le televisioni sono diventate tante. La RAI, pensate, ha 14 canali addirittura. E la RAI si è andata cambiando. Prima era una RAI mamma, una RAI che proteggeva, che educava, che si preoccupava della conoscenza dei nostri classici e quindi dava sceneggiati televisivi e regolava un pochino le nostre serate. Anche la RAI è cambiata con i tempi e quindi la sua offerta è diventata sempre più ampia. Ma devo dire che il momento più importante del cambio della televisione è stato con l'avvento del colore. Io ho avuto il privilegio di essere la prima annunciatrice della televisione a colori, anzi l'annunciatrice, perché in occasione delle Olimpiadi del 72 scelsero una sola annunciatrice che faceva gli annunci a colori ed ero io. E poi fece il primo annuncio nel 77 con le trasmissioni regolari a colori, il primo febbraio del 77. Quello fu veramente un cambio, perché si passava dalla televisione in bianco e nero alla televisione a colori, c'è dalla televisione dei sogni, dalla televisione dell'immaginario alla televisione della realtà. E infatti siamo arrivati al modo di gestire la televisione nel modo più moderno con i reality. Reality che sono stati un pochino vilipesi, maltrattati. Ecco, io invece devo dire che dipende come si fanno i reality, dipende dall'intenzione che si ha. Io ho avuto la fortuna di condurre un reality che era l'Italia a tavola per TV 2000 e andavamo nelle case, nelle case vere, incontravamo famiglie vere che ci si presentavano la loro realtà. Essendo una televisione di matrice cattolica, chiaramente andavamo in case di persone impegnate nel sociale che davano veramente un bel esempio. Un'altra Italia, l'Italia di cui non si parla, perché non fa spettacolo, ma un'Italia molto positiva e molto importante. Per quanto riguarda il ruolo della donna, devo dire che se prima le annunciatrici avevano un ruolo importante, come ho detto, perché rappresentava la RAI, adesso le conduttrici, le presentatrici, le giornaliste, abbiamo persino un direttore che è donna e quindi sono veramente tutte molto brave, belle, preparate e quindi in questo senso le donne in RAI sono cresciute moltissimo e a tutte loro faccio tanti auguri e se permettete in particolare a Camilla Nata. Grazie. Grazie.